Per organizzare un concerto degli Etal, tra una cosa e l'altra, ci vuole veramente molto. Questa nera? Sì. E le videocollezioni. E i costumi di scena. Posso sapere che è la bandiera dell'iniziatra? La bandiera dell'iniziatra? Perché? Ma lui è inghilterroso? Oltre ovviamente alla musica. Oltre, inoltre, anche alla strumentazione. Abbiamo troppa roba sul palco. Il piano, ukulele, la chitarra, violino elettrico, violino agustico, violoncello, batteria basso ovviamente. Chitarra agustica, glockenspiel, armonica. E poi, niente, ci sono le videocollezioni dietro che scolgono. Quindi, alla fine, siamo solo noi cinque che organizziamo il tutto. Allora, va bene, così. Allora, per niente, ci stanno due cani. Ci sono stati tedeschi, però. Uno è toscano e uno è romano. Il pivy ha l'asciugo, no? La siemens come spina, giusto? E' l'albanese. Ma che cazzo sei! Non la fa in buro, sì. Ok. No, perché siccome queste cose le ruba, non si ricorda bene. Quindi, è difficile, non è perfetto come vorremmo, però no. Una cosa così. A un certo punto compare una fiorentina in mezzo alla strada. E io sono una piccola paragonata del parso. Eh, sì, sì, sì. Nonostante io sia un cazzone, ma il cazzone, purtroppo, è un parso. Sa, sa, prova, prova, prova. Ah, quanta seconda cosa c'è, c'è questo, porta. Esatto, scusate, è 400 minuti con 10x e 15 minuti poco. Eh, mamma mia, da pula. Da pula, da pula. Lietà, lietà. Adesso, per esempio, stiamo andando a fare questo concerto. Siamo carichi come muli. E quindi niente. No. Non so, ovviamente, può fare questa fiorentina in mezzo alla strada. Tutti e due cani smettono a correre. I tedeschi, la sua direzione. Ci arriva per primo il cane toscano. No, come era, sì, ci arriva per primo il più. Ci arriva per primo il cane toscano. Prende sta fiorentina, il cane romano va lì e fa... Che c'ha in bocca? Arne! E gli ha dato la fiorentina, no? Il cane se la prende, comincia a correre, dopo qua c'è il primo molo in culo con la stessa taglia. Ma secondo me io lo posso fare. Guarda, guarda, io ho un toscano che non lo so fare. E tu c'hai in bocca? Ciccia! E Albert non è venuto. Esatto. E Albert subirà i nostri dettami. Esatto. Perché se no... Beh, è ora, è ora che noi ci rifacciamo qui a Albert. Cioè, tra l'altro siamo quattro contro uno, ma... Vabbè che lui è Albert. Non so se è chiaro. Albert! Eh sì, sì. Eh sì, sì.